Buonasera a tutte le persone presenti, siamo arrivati al settimo e ultimo appuntamento di questa rassegna dei freschi di stampa che ci ha dato molte soddisfazioni, siamo molto contenti, non vediamo l'ora di presentarvi l'ospite di stasera perché è un'artista straordinaria. Prima di fare entrare i nostri ospiti vorrei fare un ringraziamento a Iris che è qui presente della ditta Gianni Andalò Meccanica di Precisione che è la ditta, lo sponsor che ci sostiene dal 2002. E grazie proprio a Gianni Andalò Meccanica di Precisione che riusciamo a organizzare questo appuntamento molto caro a tutti gli imolesi e sempre molto partecipato. L'artista di stasera è una performer a tutto tondo, balla, canta, recita, ha lavorato in televisione, a radio, a teatro ed è anche molto impegnata sul tema dei diritti umani. e farei entrare Sabanglana, prego, accompagnata in questa chiacchierata di stasera con Emiliano Visconti con il quale abbiamo iniziato da quest'anno questa collaborazione. Il libro che presentiamo stasera si intitola La Signora Meraviglia, un romanzo d'esordio, edito però da una colana prestigiosa, la Sellerio, che ha avuto ottime recensioni, quindi siamo veramente onorati, è veramente un piacere di ospitare Sabah. Ringrazio infine le colleghe che dietro le quinte si occupano dell'organizzazione della rassegna, Michela Betti, Paola Cardace, Manuela Zanelli, che da parecchi mesi insomma lavorano all'organizzazione di questi eventi. e poi vorrei ringraziare di cuore anche tutto il pubblico che per tutte le sette serate ci ha accompagnato e ci sostiene, ci supporta in tutte le iniziative che organizziamo la biblioteca. Quindi grazie davvero, grazie a tutti i presenti e anche che ci seguono da casa, perché abbiamo lo streaming e sappiamo che tante persone ci seguono anche da casa. Grazie, buona serata e buon ascolto. Buonasera a tutti, io sono stato qui la prima volta, decine di anni fa, però diciamo che la prima volta in questo posto magnifico, ci sono stato 15 giorni fa, ero con Veragheno e ho fatto una foto a questo albero incredibile che sovrasta questo a corte, che trovo un posto incredibile, mi chiamo Emiliano Visconti, mi occupo di cultura ormai da 15 anni e sono contentissimo di essere qui con Saba perché oltre ad essere una grandissima artista è una carissima amica, non ci vedevamo da qualche anno tra Covid e vicissitudini varie per cui noi abbiamo passato le precedenti due ore da quando ci siamo incontrati tra aperitivo e cena a chiacchierare di tutto, di tutto, di politica, di questioni personali, di tutto tranne di quello che avremmo detto questa sera davanti a voi, per cui è una conversazione completamente inventata e estemporanea quella che faremo mi piace che sia così, io sono molto poco formale nelle presentazioni, ne detesto i premi, le carriere, per me siamo qui a chiacchierare io e lei con voi di un libro molto bello che è La Signora Meraviglia, un libro che tocca temi quanto mai attuali e pure sempre gli stessi mi verrebbe da dire perché in un qualche modo questo libro ci svela che quello che ci sembra così urgente oggi è urgente in realtà da molto tempo è un libro che ha diverse geografie mi verrebbe da dire, la cosa prima che colpisce probabilmente è la geografia e poi tanta politica intesa nel senso forse più vero della parola, cioè in quel senso in cui la politica entra in contatto con la vita delle persone comuni ma quello che mi interessa capire, perché Saba è una performer, ha lavorato al teatro, è una cantante quindi tutto sommato quando ho scoperto che usciva il tuo libro io sono rimasto anche un po' colpito ho detto va, arriva al libro e quindi conoscendoti ho pensato ci deve essere un'urgenza non può essere un libro per far uscire un libro in un periodo in cui ne escono troppi e non se ne vendono nessuno quindi c'è un'urgenza narrativa, c'è un'urgenza di dire qualcosa che si avverte poi fin dalle prime pagine cioè in realtà un impatto con la realtà che ti costringe a fare i conti con quello che sei stata con quello che sei stata e quello che sei e forse anche con quello che sarai ci vuoi raccontare in realtà dove nasce? Poi entreremo a capire chi è la Signora Meraviglia però intanto qual è l'impulso, l'urgenza che ti ha spinto a scrivere questo libro? Grazie Emiliano, grazie a voi che siete qui stasera in questa magica atmosfera fatemelo dire perché stare qui al cospetto di questo cetro del Libano dà un certo senso di sacralità al nostro incontro e posso dire intanto a proposito di quello che ti dici che certa emergenza quando siamo spinti da qualcosa di autentico da una forza che ci spinge a scrivere, a esprimerci certe volte i risultati si saggiano anche semplicemente perché con voi lo posso dire per la prima volta pubblicamente il libro è la seconda edizione già da ieri mi hanno detto che il libro è andato in ristampa quindi di questi tempi è un bellissimo traguardo che voglio condividere con voi l'emergenza è nata quando ero al cospetto così come spesso succede magari a ciascuno di noi al cospetto di una burocrazia soverchiante quella di certi uffici che si occupano di in teoria di facilitare l'iter per l'ottenimento di un certificato di un documento e beh io ero al cospetto di una funzionaria del patronato dell'ufficio della CGL di Ostia Ostia Lido Lido di Roma ero lì con la mia anziana zia zia di Gay una settantenne che ancora vive per cui le faccende del libro si riferiscono a pochi anni fa tutto vero tra l'altro un romanzo basato su storie di eventi realmente accaduti beh io ero con lei perché dopo 40 anni abbiamo iniziato a sentire un vento abbastanza preoccupante che non è il vento che cercheremo stasera che vedo che si sventola un vento che soffiava dalle radio dalle televisioni vento fatto di voci che dicevano i clandestini o quelli che non avevano che non hanno una identità sociale ufficialmente riconosciuta non soltanto non devono essere curati dai medici dai dottori nel caso abbiano bisogno di cure mediche ma devono essere anche addirittura denunciati non so ma questa cosa cioè questo legame tra salute che è un diritto universale e l'idea di addirittura non poter avere accesso a questo diritto da venire denunciati se ci si esponeva ecco allora mi ha fatto preoccupare per cui ho condotto questa mia zia davanti a a questa funzionaria del patronato per chiedere come avremmo potuto dopo 40 anni in cui la zia per tanti motivi era in Italia da straniera aveva bisogno di intraprendere l'iter per l'ottenimento della cittadinanza Roma cittadinanza de qua cittadinanza de là siete tutti fissati con questa cittadinanza ma che te frega ogni due anni vieni qua ti aiuto io a fare il permesso di soggiorno rinnoviamo insieme che te stai a mettere ancora dentro a tutti sti meccanismi ma poi manco fosse tutta sta meraviglia cittadinanza io la restituirei a cittadinanza signora senta facciamo facciamo che adesso lei mi ridà tutti quanti questi documenti che abbiamo fatto zia te la faccio prendere io la cittadinanza la signora meraviglia e così è diventata signora meraviglia è diventata questa specie di figura mitologica manco fosse tutta sta meraviglia diceva questa signora per noi era una signora meraviglia quindi è iniziato questa specie di veramente di viaggio attraverso la burocrazia che in condizioni normali se non hai una specie di spada di Damocle sarebbe anche interessante divertente comunque anche istruttivo capire quali sono tutti i passaggi all'interno della burocrazia italiana capire cosa significa attraversare gli uffici per raggiungere la signora meraviglia ma quella spada di Damocle è una condizione sociale cioè un'identità socialmente accettata che è imperfetta quindi hai questa specie di ansia no? che questa specie di increspatura dell'animo per cui ho capito che l'iter per l'ottenimento della cittadinanza se tu sei uno straniero rischio denuncia perché il passo della clandestinità è un attimo beh effettivamente non è questione neutra non è neutro ma non lo è neanche per gli italiani stessi se noi andassimo in un ufficio a reclamare una multa ingiusta o un pignoramento o qualsiasi cosa che riguarda comunque la nostra no? l'integrità della nostra identità sociale che viene messa in discussione da da un reclamo da una multa ingiusta appunto o comunque da un certificato che non ti arriva automaticamente beh allora no non è cosa neutra perché impatta con la tua con la mia con la nostra emotività cioè ecco perché nasce quella emergenza perché tu capisci che la burocrazia non è qualche cosa che tu puoi affrontare a cuor leggero come se non ti toccasse perché c'è sempre questa frizione tra la tua identità che è fatta di tante cose magari prendi una multa perché hai bevuto un bicchiere di birra in più e ti dicono guarda ma tu tu sei tu sei uno che è pericoloso per la nostra società tu sei a rischio clandestinità tu sei uno che sbaglia regolarmente quindi tu sei uno pericoloso quindi l'ho sentita questa frizione tra un'identità complessa e invece le regole sociali che ci vogliono invece conformi alle leggi questo ha creato per me si è aperto davanti a me questo viaggio emotivo psicologico che io ho vissuto attraverso gli occhi di questa mia zia anziana e che ha messo in discussione anche molte delle mie idee riguardo al concetto di alterità al concetto di sentirsi stranieri e al fatto che sentirsi stranieri non è qualche cosa legato semplicemente alla nostra nazionalità ma improvvisamente siamo stranieri anche quando non abitiamo in una società che per esempio ha gli stessi nostri valori improvvisamente siamo fuori legge perché non so magari non ci vacciniamo oppure magari decidiamo di agire diversamente e improvvisamente siamo fuori dalla società quindi ho capito che davanti a me c'era un materiale importante vibrante che andava la pena di essere raccontato perché non parlava soltanto ai cuori nostri di stranieri cronici a proposito di geografia ma c'era qualche cosa di universale che parlava credo forse ai cuori di quanti a cui potevo raccontare questa storia cercando di sollevare la domanda ma tu sei quello che dicono i documenti quello che dicono le leggi quello che dicono le regole sociali oppure tutti noi siamo molto molto più complessi di quanto dicono le carte in questa ricerca che scatena diciamo la diciamo questa è la scintilla da cui parte la la narrazione perché questo comunque è un romanzo e chi lo legge lo vive come un romanzo perché noi sappiamo che possono essere persone reali ma ci penso spesso tra cent'anni duecento anni non ha importanza che siano reali o meno ha importanza che siano realistici che ci parlino che ci dicano qualcosa che va al di là del fatto che ci sia autobiografia o meno e questa scintilla che tu hai appena descritto ti fa partire per un viaggio un viaggio in cui sostanzialmente due cose mi hanno colpito molto il fatto che uno per ricostruire questa identità e nel caso di tua zia non c'è non c'è un certificato di nascita non c'è nulla che attesti da dove viene di chi è figlia niente perché nel frattempo ci sono le guerre che annullano questi documenti poi magari entreremo nel dettaglio le guerre in cui le anagrafi vengono bruciate in cui non ci sono più documenti che attestino di chi sei figlio e se sei nato lì o non sei nato lì e quindi voi lo dovete ricostruire a forza dovete raccontare una storia che faccia prendere per vero quello che voi dite come fonte di origine della storia di tua zia da una parte dall'altra nello scoprire questa storia è una storia di una famiglia che sostanzialmente parte perché il libro inizia da lì dall'origine dall'Etiopia siamo negli anni 30 più o meno gli anni in cui noi italiani brava gente andavamo a buttare le armi chimiche sul popolo etiope che a un certo punto scappano o per motivi anche non così urgenti si trovano dall'Etiopia a vivere in Somalia e si trovano a Mogadiscio peraltro attraverso una serie di vicissitudini un po' magiche perché poi questo è il bello credo del libro che tu hai scritto leggendolo in certi momenti ti trovi dentro a le mille e una notte dentro delle fiabe o delle narrazioni che sono al limite del reale eppure sapendo che è una ricostruzione vera di una famiglia sono assolutamente reali però viste dagli occhi di un italiano che con le terre non le ha mai vissute parlo di me e non le conosce non ne ha idea non ne ha idea dei soppori degli odori dei profumi di cui scutti insisti molto e poi entreremo nell'altra tua arte che entra di prepotenza in questo in questo libro quello che si legge è una trama fiabesca allora quello che mi viene da chiederti e in questa trama fiabesca c'è una doppia un doppio carpiato mi viene dire sul concetto di identità perché questa zia di cui si cerca di dimostrare che è cittadina italiana che quindi deve avere la cittadinanza italiana in realtà parte la sua famiglia parte dall'Etiopia arriva in Somalia arriva a Mogadiscio dove è già straniera dove è già rifiutata dalla società dove dovrà scappare perché quella società non la vuole quindi questa condanna continua questa ricerca di identità che è un'identità che ti chiedono gli altri dove tu arrivi ti chiedono chi sei da dove vieni sei dei nostri o non sei dei nostri sembra una storia senza fine no non è mai raccontata con un senso di vittimismo no ma te lo dico tengo a dirlo questo perché non è un libro io torno nemmeno nelle intenzioni non è scrivere qualche cosa per mostrare quanto sia duro vivere da da stranieri questo credo che ormai l'abbiamo capito tutti quanti in realtà nel sentirsi cronicamente stranieri c'è una forte possibilità c'è una opportunità intanto perché questo lo posso dire anch'io che sono dalla nascita italiana perché mio padre era italiano anche se sono nata da madre etiope però comunque non ho mai vissuto da perfettamente italiana in qualsiasi contesto sono troppo scura per i chiari o troppo chiara per gli scuri o comunque nonostante i miei studi nonostante un libro sellerio ancora qualcuno dice parli abbastanza bene l'italiano e quindi però io non me la prendo più credo che non sia più una condanna sentirsi straniero è un'opportunità nel senso che tu non sei seduto comodamente sulla poltrona di un'identità data ma sei così quasi sempre in punta di movimento è come se il tuo baricentro fosse continuamente spostato dagli eventi da questo vento che ti mette alla prova il tuo sentirti soprattutto essere umano indipendentemente dalla matrice culturale da cui tu vieni che è importante io non sono per una recisione delle radici anzi vanno raccontate scoperte le radici proprio perché poi a un certo punto te ne puoi anche disfare ma soltanto dopo che le hai conosciute questo salto di cui parli tu si è compiuto davanti a un ufficiale della Croce Rossa quando sempre io accompagnando come come Virgilio no accompagnando nella selva selvaggia e aspra e forte della burocrazia italiana la mia anziana zia beh lì davanti ci siamo trovati davanti ad una persona che ci chiedeva di dimostrare le nostre origini passando da un piano squisitamente burocratico legato alle leggi alle carte ad un piano della narrazione cioè lo stato italiano ti dà la possibilità quando arrivi da un paese quando sei nato in un paese in cui non esiste neanche più fisicamente l'anagrafe nella fattispecie Mogadiscio la Somalia soffre di quasi 30 anni di guerra civile per cui gli edifici non esistono più prima erano crivellati poi sono venuti giù non esiste un'anagrafe per cui come come lo presenti un certificato di nascita non ce l'hai lo stato italiano ti dà la possibilità di autocertificarti ma come ti autocertifichi questa questa nascita portando delle fotografie raccontando degli episodi cioè tu devi convincere la persona che ti sta davanti che tu sei nato veramente lì lo capite che nel terzo millennio epoca di database di speed di identità digitale tu sei lì davanti a un essere umano a raccontare sì io sono nata lì in quel quartiere questa è la fotografia rigorosamente in bianco e nero seppia no queste cose è lì e io osservavo tutto questo e piano piano vedevo che si stava disegnando davanti a me un materiale che andava la pena di essere raccontato perché tornava prepotente nella nostra società digitale il racconto la storia alla base dei rapporti umani questo mi ha dato la possibilità di risalire a retroso capire le motivazioni per cui una famiglia ibrida come la nostra era prodata in Italia e si era trovata in quelle condizioni per cui parte del nostro albero genealogico italiani per cui nessun problema altri stranieri che non riuscivano avere la cittadinanza altri sposati ai italiani insomma una situazione un po' caotica dal punto di vista tra virgolette dell'identità e allora ho ricercato mi sono lasciata andare da questo meccanismo della narrazione ho chiesto ai componenti della mia famiglia e ho capito che alla base di tutte le nostre vite c'era quella malattia di cui parli tu questo senso costante di alterità questo dolore legato a una forma di trapianto di cesura e scavando 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 ho trovato una scena la scena con cui ho deciso che il libro si sarebbe aperto la scena del prologo cioè la base dell'albero genealogico c'era una scena che aveva una rilevanza storica culturale per il paese italiano e per il paese etiope da qui discendo una scena che si è consumata alla fine degli anni della fine degli anni trenta del secolo scorso quando c'era il scusate non si dice coglionalismo si dice colonialismo e mi sbaglio sempre ci sarà un motivo per cui questo modo colonialismo è strana però questa 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 vicinanza di queste due parole lo siete ma sarà questo secondo me qui siamo più in ambito freudiano di esempio sì esattamente sono più jungiana che freudiana però in questo caso lo spirito di Freud è arrivato qui per dire effettivamente che è stata una parentesi abbastanza cruenta sofferta della storia italiana e della storia etiope è una storia rimossa in ambito italiano ma tra l'altro mi viene da dire una storia sovrapposta che è la tua storia personale perché poi dopo tu sei in realtà nata da un'unione tra una donna etiope e un italiano che probabilmente forse suo padre guidava gli stessi aerei che sorvolavano i cieli sotto cui stavano l'altra parte di famiglia è più grave la cosa in realtà il salto non è addirittura di una generazione è diretta la cosa perché mio padre era del 1916 mio padre alla fine della guerra della seconda guerra mondiale era un colonnello dell'esercito italiano quindi dell'esercito fascista dai dai ciascuno di noi li ha avuti in famiglia io sarà che io ho avuto un mio padre ma ciascuno di noi ho avuto qualcuno in famiglia che ha combattuto da quella parte ma io ho avuto anche un nonno il padre di mia madre che aveva più o meno la stessa età di mio padre che era invece un combattente dell'esercito cioè dell'esercito in realtà dei ribelli non era un esercito perché era era resistenza etiope che combatteva contro i famosi coglionalisti contro gli italiani per cui ho scoperto in questa ricognizione che chi aveva lanciato l'iprite sulla testa degli etiopi era il fratello di mio padre Cesare zio Cesare da qui discendo in maniera diretta che era un ufficiale un alto ufficiale dell'aeronautica militare voi immaginate da che circuito da cortocircuito cortocircuito storico culturale io sono nata come una specie di lampo per cui una corrente calda una corrente fredda si scontrano io nasco da quel lampo adesso non vorrei troppo mitizzare le mie origini però vi rendete conto che io mi sono immaginata e ho cercato di scriverlo in questo libro l'incontro tra mio padre e mio nonno ho immaginato quando mio padre è andato a chiedere a mio nonno in moglie sua figlia la figlia etiope dopo anni dopo la guerra io sono nata da quella forma di pacificazione due uomini su due fronti opposti che hanno deciso invece di perdonarsi di amarsi e addirittura sono nata io da questo questo mi ha dato la possibilità a proposito di sentirsi costantemente straniera mi ha dato la possibilità di fare costantemente dei salti empatici dei miei presunti straniere nemici o i fronti opposti capire le ragioni degli altri costantemente a rischio di schizofrenia molto spesso Emiliano perché non è molto facile perché è troppo facile dirsi figli di un'identità di un partito di una nazione di un gruppo sociale di una classe sociale di una cultura e invece esercitare costantemente la propria alterità significa esercitare anche la grandissima opportunità di pacificazione attraverso noi che siamo figli di queste culture di questa storia possiamo dire abbiamo l'eredità tenere per mano due popoli che si sono prima di essersi incontrati si sono scontrati e se scriviamo e questo devo molto alla letteratura alla scrittura che mi è venuta a trovare se scriviamo è anche per raccontare che la possibilità di pacificazione serve perché non soltanto insiste nel passato a proposito di magia per cui con un salto arrivi a pacificare il passato ma anche nel presente perché i germi del conflitto ci sono anche adesso nella nostra società che vorrei chiederti dato che la letteratura è fatta di parole di suoni di 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 linguistico di ritmo di leggerci una pagina io ne ho individuata una poi magari tu ne avrai un'altra io ho il vizio di fare le orecchiette ai libri faccio molte orecchiette qua ci sono tantissime e tutti i lettori snob mi dicono no non si fanno le orecchiette libri ma c'è un mio amico che diceva sempre no no le orecchiette libri bisogna farle perché così poi dopo ti possono ascoltare dopo ci hanno le orecchiette e quindi io continuo in questa mia imperterita lotta a favore dell'orecchietta e quando faccio l'orecchietta grande questa è quasi un'orecchia sventola praticamente è una mezza pagina piegata è il mio segnale da leggere ad alta voce io però ti chiederei di non dire nulla di dove siamo in che contesto narrativo siamo prima di leggerla vi dico soltanto che non siamo nel presente ma lo capireste dopo tre parole che lei legge perché quello che viene descritto qui secondo me in questa in queste due pagine è qualcosa di meraviglioso parla di un vento un vento che soffia a mogadiscio dall'inizio della pagina 48 fino direi al capoverso successivo che è nella pagina 49 a sorpresa non devi contestualizzare quella notte la città respirava rumorosamente stafuro soffiava dall'oceano era il monsone più temuto e rispettato quando veniva a far visita a mogadiscio entrava dappertutto nei polmoni in ogni fessura buco porto finestra mariam si era addormentata alle prime luci dell'alba dopo aver pianto tutta la notte per il vento che non smetteva di usare la città come un gigantesco strumento affiato bianco quando giocava nei ricami di pietra dei muri decorati li trattava come ance abebec decise di uscire in quella tempesta sinfonica che le aveva rapito il sonno in cambio di una nervosa agitazione due passi coraggiosi le avrebbero fatto bene e voleva a tutti i costi vedere cosa sarebbe successo alle prime ore del mattino sulla spiaggia dicevano fosse vento di presagi in fondo sarebbe bastato un garbasar avvolto fin sopra la bocca per affrontare le raffiche e poi tutte quelle superstizioni dei somali su stafuro beh no no non la spaventavano allora diede un ultimo sguardo la piccola che stringeva bibi come un salvagente e uscì dalla porta di legno che richiudendosi sbatté forte la donna si fermò qualche secondo fuori dall'uscio immobile per sentire se mariam si fosse svegliata nessun pianto proseguì in fretta tremendosi il velo sulle labbra sfidando il monsone lasciando che le frugasse dentro il vestito che si gonfiava e svuotava ad ogni passo sotto una luna che ancora resisteva le venne in mente il proprietario della mahaia in cui lavorava se non avesse avuto la moglie sempre tra i piedi belle avrebbe fatto più apertamente la corte era stato lui a insegnarle la pronuncia corretta dalla parola vento insomalo hamfar le aveva detto un giorno facendo brillare gli occhi dietro ad una torre di bicchieri duralex che stava impilando ma per pronunciarlo ci devi mettere dentro il suono del monsone così si dice hamfar abe bec spingeva tutte le acca del mondo dentro quella parola e tarif ad ogni grafica sentiva il vento farsi più caldo e la torre di vetro oscillare io in questa pagina ci ho sentito quando l'ho letto tanta musica tanta tua musica in particolar modo la domanda che vorrei farti è qual è il rapporto che tu trovi tra la parola scritta e la musica che ti abita grazie per la domanda perché molto molto vicino al sentire che mia è continuamente governato durante la stesura del libro perché ho il vantaggio avuto il vantaggio scrivendo di avere in mente una specie di partitura a proposito di vento è come se avessi veramente scritto per il vento c'è sempre questo vento dentro le pagine del libro forse perché c'è questo suono questa questa parola hamfar insomano la lingua del paese in cui sono nata proprio perché ci sono state queste vicissitudini per cui ci siamo trovati lì a nascere hamfar restituisce la potenza del suono legata alla sintassi al alla parola che non è semplice significante ma in sé la potenza dei sensi la potenza dell'accadimento hamfar è una parola in cui pronunciarla appena la dici il respiro di vola già via e non è inafferrabile e ci sono queste parole onomatopeiche che hanno mi hanno molto aiutato a comprendere anche come si potesse scrivere come se ci fosse una specie di partitura per vento il ritmo del vento il vento è quello di cui ho cantato nei miei dischi molto spesso forse il primo brano che io ho scritto in assoluto dedicato proprio al vento hamfar faceva e poi c'erano anche i suoni degli uccelli perché nel vento trovano la loro balance no il loro equilibrio questo vento che soffia soffia mentre scrivo perché il vento che aveva anche dato vita alla famosa questa prima scena del libro no quella scena che ho trovato alla base dell'albero genealogico come ti dicevo l'urgenza di aprire con quella scena a fine degli anni 30 sull'altipiano etiope quasi 3000 metri questa poco più che una bambina che corre 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 disperatamente sotto sotto gli alberi sotto gli eucalipti un bosco di eucalipti e e la rincorre questo vento che ha le sembianze di un uomo che che festa piedi festa festa passi passi decisi dietro di lei colpisce con con un bastone gli arbusti e la vuole perché la vista la vuole ha deciso che lei deve essere sua quest'uomo era un ascaro somalo cioè uno dei combattenti un mercenario che che combatteva per gli italiani no c'era questo questo contingente che era sia somalo che 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 anche elitreo combattevano per gli italiani contro anche i propri fratelli quest'uomo ha deciso di prendere questa ragazzina e c'è questo vento che un vento han farà proposito il vento del cambiamento è un vento che sradica e feconda in un'altra terra un vento che distrugge o spinge i semi lontano il vento che porta piogge fuoco sventura benedizioni e il vento che cambia il vento della guerra è un vento molto forte perché spira quando decidono gli state di farsi la guerra come è successo il secolo scorso tra italia etiopia somalia e poi anche il vento che arriva a toccare te singolo che ti porta a lasciare la tua terra quella ragazzina era mia nonna ma quello che ho capito nella ricognizione anche di questa scena che lì insiste nel nostro albero genealogico alla base raccogliendo tutto il dolore che piano piano poi è arrivato fino a noi fino a me ebbene quel vento è il vento che ha determinato anche la mia nascita perché senza quella violenza senza quel dolore io non sarei mai potuta nascere io sono figlia di quel trauma figlia di un altro uomo lei avrà avuto avrebbe avuto poi a uno poi due figli da questo violentatore che poi l'abbandona se non voglio spoilerare troppo ma vale la pena probabilmente capire quali sono i passaggi anche motivi bene non possiamo maledire quel vento se il vento che ha fatto sì che poi noi nasciamo perché i traumi e sono voglio scomodare il materialismo storico non so di marx che dice che si procede attraverso le guerre però i traumi probabilmente nascono perché poi noi nasciamo e poi dobbiamo guardare a quel dolore per superarlo a proposito di pacificazione quello che vi ho raccontato prima sono costantemente al cospetto di questo vento c'è tanta musica in queste pagine c'è musica nella nel ritmo con cui le scrivi i riferimenti a lancia i riferimenti all'orchestra sinfonica e riferimenti agli strumenti tanti componenti di questo romanzo suonano prendono fuori delle chitarre delle degli uti degli ut e suonano a ti volevo chiedere c'è una pagina di questo libro che tu potresti addirittura arrivare a cantarci sembra che ci siamo abbiamo preparato tutto ma in realtà ce ne abbiamo parlato di tutto d'accordo sono ben felice di poterlo fare sì 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 c'è 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 un feeling che va al di là della preparazione è molto molto bello tutto questo allora c'è questa pagina che io ho imparato ad amare molto dopo averla scritta l'ho scoperta quasi molti mesi dopo dopo che è uscito il libro in realtà il libro è uscito appena quattro mesi fa però diciamo che già da un mese che io inizio ad amare questa pagina perché è una pagina che racconta molto di che cosa ecco se voi mi chiedeste ma tu che cosa sei a questo a proposito di identità a proposito di cittadinanza ma tu alla fine hai capito che cosa sei sei figlia di un italiano sei figlia di un etiope sei nata a mogadiscio in somalia vivi in italia ma sei sempre così in punta di alterità ma insomma tu che cosa sei quando la tua identità può dirsi compiuta quando ti senti perfettamente dentro una specie di sfera quando ci si sente pieni nella propria pienezza quando ti riconosci questa risposta me l'hanno dato mandata in i miei nonni perché ho descritto il momento in cui il nonno urcu il nonno etiope che poi mia nonna ha conosciuto a mogadiscio ed era lui un uomo figlio anche della stessa guerra perché era stato deportato dagli italiani e messo nel campo di concentramento campo ahmar lo chiamavano il campo di concentramento a mogadiscio in cui lui ha vissuto diversi anni quando è uscito da quel campo di concentramento ha incontrato questo esserino abbech questa donna delicatissima sola come lui figlia della violenza figlio della guerra come lui e quindi sia la comunità etiope che tutti gli eventi spingevano perché loro due si incontrassero si amassero formassero una famiglia però no dopo quello che era successo e non era come le donne che subiscono violenza non erano non voleva assolutamente cedere il proprio cuore a quest'uomo non si fidava perché certe donne poi alla fine non si fidano giustamente non riescono a fidarsi più allora lui ha messo ha messo a segno questo che ha molto che fare con la mia vita da musicista da cantante con il ruolo della musica quando la musica parla l'identità di ciascuno di noi e questo mi ha chiarito che cosa sono io quando mi sento veramente appartenere a qualcosa quando succede questo miracolo e io ve lo consegno mi alzo allora abbech era nella macaya macaya in piemonte si dice piola non so come si dice romagna cioè quei luoghi quelle osterie no antiche dove si mangiava si beveva ma e lei era approdata mogadiscio con con frutto del di quella violenza marima la propria bambina che dormiva in fondo alla sala e lei riordinava i tavoli tirava su le sedie le metteva sopra i tavoli puliva c'era ancora il balbettio della della fiamma del bracere e si era spenta mogadiscio che normalmente invece brillava come una come una tovaglia di cotone bianco stesa al sole ma quella sera era buio naturalmente vide l'ombra della macaya disegnarsi la sagoma di work quest'uomo che continuamente cercava di di vincere il suo cuore le faceva la corte mio nonno pur cui avanzò in silenzio e e si sedette su un gember vicino al bracere sfilò da sotto il braccio lo strumento di pelle di mucca di budello e legno l'uomo lo appoggiò sulla gamba sinistra e spinse una mano aperta contro le sei corte il respiro fermarsi attorno a quelle dita in piedi senza fiatare la donna attese che si muovessero quelle dita uno dopo l'altro i polpastrelli di work o allora presero a muoversi mentre l'altra mano pizzicava piano più in basso chiuse poi gli occhi in un'espressione assorta che gli fece piegare così no leggermente la testa all'indietro per pescare una voce sepolta così a fondo da doverla prima cercare con tutto se stesso dopo che le note del crar avevano preparato la strada so chiuse le labbra e dalla gola fece uscire una luce sottile fatta di suono so chiuse le labbra e dalla gola so chiuse le labbra e dalla gola Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quella melodia, il profumo dell'ingera, cioè del pane etiope, che cuoceva nella calotta di ferro sui carboni. Beh, allora Abbech crollò sulla sedia davanti a Urquo, al cospetto della sua voce, che si era fatta carne di quell'altrove perduto. Abbech, orfana di terra, in quel modo, con quella musica, si sentì finalmente per tenere. Grazie. Con l'emozione di questo tuo canto è difficile andare avanti, ci proverò. La signora meraviglia, il titolo. C'è un gioco sottile che fai su questo titolo, un gioco secondo me molto bello, tra la cruda brutalità della burocrazia, la prima volta che la parola compare nel romanzo è questa meraviglia, forse questa gran meraviglia dell'impiegata all'anagrafe rispetto all'ottenere la cittadinanza. E poi c'è una parola etiope o somala, a cui sono ignorante, quindi non so a quale delle due lingue appartiene, che è il nome di un personaggio fondamentale nella costruzione, che è il personaggio più, la personaggia, verrebbe da dire, bruttissima, più metafisica, più inafferrabile per certi versi di tutto il romanzo, che ha a che fare con la magia, con quel vento che hai cantato meravigliosamente poco fa e che ugualmente tradotto in italiano è la signora meraviglia. Questo gioco lo avevi in mente all'inizio del percorso o nel riscoprire, nel risalire questa corrente che hai risalito, andando alla foce della tua storia, a un certo punto è comparsa questa altra signora meraviglia che è così determinante nel romanzo? Credetemi, credetemi. C'è proprio, c'è stata una forma di canalizzazione, perdonate questo termine, cioè è come se tutto questo fosse arrivato a me quando io ho accolto le storie, perché mi parlassero. Ed è stato incredibile capire che io da una parte avevo la signora meraviglia, così come ve l'ho raccontata, la signora del patronato che ha detto, che ha dato questo no epiteto alla cittadinanza, manco fosse tutta questa meraviglia per cui noi abbiamo pensato fosse la signora meraviglia, e poi vai a scavare in tutte queste storie, col meccanismo che vi ho raccontato, e scopri che a Mogadiscio c'era veramente una signora meraviglia, cioè la Uesero Dinknesh, che in amarico, che è lingua d'Etiopia, significa veramente signora meraviglia. Io ho guardato, lì erano le mie zie, e ho detto, ma veramente è successo, cioè è esistita questa signora? E io ho sentito, sai quando tu scopri qualche cosa di talmente forte, di talmente una coerenza magica, nelle cose che ti tremano le vene, non so se vi è mai successo, dici, è fortissima questa storia, come è possibile? Ma veramente esisteva? Sì, questa signora ha aiutato tua nonna, perché questa signora, Uesero Dinknesh, aveva un nome in amarico, un nome etiope, perché era anche lei un etiope scappata proprio da quel vento famoso della guerra, ed era arrivata in Somalia. Ma questa signora conosceva l'antica arte dei dopterà, che sono questi preti copti ortodossi, che conoscevano le tecniche di esoricismo. Parliamo della religione copta ortodossa etiope, che ha una profondità, cioè l'Etiopia cristiana ancora prima che Roma lo fosse. I loro copti ortodossi conoscevano anche queste tecniche per cacciare il diavolo dai corpi dei posseduti, degli indemoniati cosiddetti. Lei aveva capito, aveva imparato queste tecniche, le aveva portate quando era scappata in Somalia, per cui curava il Mingis, cioè le trans e questi episodi di possessione soprattutto delle donne somale. Ma già che c'era, dal punto di vista anche sincretico, operava anche la mutilazione dei genitali femminili, l'infibulazione, perché dalle donne venivano mondate non soltanto da quel spirito che praticamente accende una forma di rifiuto della società, di ribellione probabilmente, per cui ti fa parlare in un'altra lingua, ti fa saltare a due metri d'altezza, ti fa rotolare per terra e comunque noi conosciamo, nel sud Italia è stato De Martino che ha raccontato mirabilmente tutto quello che succedeva anche nel nostro contesto culturale, le tradizioni popolari. Però, oltre a cacciare il demonio, restituiva alle donne anche un'identità socialmente accettabile, congrua alle regole sociali, praticando l'infibulazione. erano ancora una volta le donne soprattutto, erano mira di queste pratiche per rendere più mansuete le donne. E dal momento che Abebech, mia nonna, ha psicosomatizzato il dolore per quello strappo che vi ho raccontato, attraverso una serie di problemi fisici, anche di momenti di rapimento che vengono raccontati qui, come se ci fosse appunto come se la magia, no? In realtà fa molto parte del nostro orizzonte reale, noi l'abbiamo rifiutata nel nostro contesto culturale, ma c'è molto raccontata qui. Ebbene, Wizard of Nknesh ha aiutato anche mia nonna. Ma quando io ho visto queste due signore meraviglie, Emiliano, ho detto, ma probabilmente si parlano da due geografie diverse, da due contesti culturali, da due storie, da due mondi anche dal punto di vista cronologico, diverse, ma sta a vedere che tutte e due agiscono con una simile violenza. Tutte le volte che vogliamo dare, restituire a un essere umano un'identità socialmente conforme sia una pratica di esorcismo o una pratica burocratica legata ai certificati che ti dicono tu sì, tu no, stiamo operando la stessa violenza. pensateci, magari a voi non risuono. A me suona così. In tutto questo, questa frase che hai appena detto, questa riflessione che hai appena fatto, cozza con quello che noi abbiamo in mente della parola meraviglia, no? In un qualche modo ci hai dato il risvolto, il negativo della parola che, adesso c'è qualcosa di fantastico, bellissimo, di… Non è negativo, è l'opportunità, l'opportunità. È un'opportunità, questa cosa che hai detto prima dell'opportunità che se tu, senza tutta questa serie di violenze, tu non saresti qui oggi, è altrettanto potente, no? Come immagine. Io ti vorrei chiedere, direi che siamo in chiusura, ti vorrei chiedere, non ne ho la più parola di idea, forse no, però ti vorrei chiedere, la signora meraviglia, ho detto all'etio, per la somala, ce l'ha una canzone già? Ce l'hai? Per salutarci? Allora, non è proprio la signora meraviglia, non l'ha mai fatta questa cosa, è vero, non ci siamo preparati, eh? Niente. Però sono, sono, è in italiano, voglio farla, sì, perché, perché, perché sto, sto incominciando anche a cantare un po' in italiano, come è giusto che sia. Non è proprio una canzone della signora meraviglia, ma arriverà, perché tutto questo si trasformerà in un progetto, al di là del recital, alla base, alla, che racconterà la signora meraviglia in musica, ci sarà un, cioè, c'è un progetto teatrale legato a questo romanzo, però c'è una canzone legata alla magia, cioè, alla, alla, all'opportunità che ti dà, spesso, la pratica magica che ti mette in difficoltà. Tra questa, questa galleria di personaggi magici che ha incontrato mia nonna, ed è tutto vero, ripeto, c'era questo somalo, questo, questo indovino che usava la malacomanzia, cioè, che questa, sapete cos'è la malacomanzia? Qualcuno di voi sa cos'è? No? Non vi dice niente? Neanche tu? Malacomanzia sembra una cosa, ma malevola. In realtà, è la pratica divinatoria attraverso il lancio delle conchiglie, anche proprio etimologicamente, no? Per cui, ci sono alcune società per cui tu hai le conchiglie, le tiri in alto, cadono giù, e a seconda di come sono orientate le conchiglie... Scena meravigliosa del libro. Romeno, le conchiglie ti indicano il futuro, sono una fotografia sia psicologica del presente, ma indicano anche una direzione. Abbebech, prima di andare a Mogadiscio, quando poi era stata rapita da questo Askerosomolo e si era fermata a Baidoa, sentiva la sua vita completamente aralizzata, perché se ci succede qualche cosa che ci traumatizza, così come fanno i gatti quando vogliono riparare, no? il proprio dolore, si fermano, no? Ci fermiamo, ci paralizziamo, non vogliamo più andare avanti. Poi interviene la violenza anche di certa magia, no? Che ti dice, ehi, hai paura del futuro? Preferisci startene fermo nelle tue piccole convinzioni, nel tuo piccolo dolore, oppure usi questa come un'opportunità per far camminare il cammino. Il tuo corpo fa di tutto per fermarsi e farti guardare indietro tu e la tua discendenza, sentirete sempre la lontananza come una malattia, ma tu vuoi guarire? Allora alzati e fai camminare il cammino. Ma tutto questo lo dice a un certo punto anche in musica. L'indovino. Ed è una cosa che forse, piccola piccola, è una cosa che riguarda anche noi. Ogni volta che abbiamo gli attacchi di panico, io li ho avuti, ne ho sofferto. Ogni volta che viene l'attacco di panico vuol dire che tu non ne vuoi proprio sapere nulla e andare avanti ed affrontare quello che c'è fuori. Vuoi fermarti, hai paura, morire. Voglio morire, voglio fermarmi. E poi però la vita ti dice forse ti sta succedendo tutto questo e tutto il dolore perché è la famosa opportunità. Allora, questo forse parla anche a noi. Lui soffiò sul tè, succhiò la bevanda caldissima, lo sciai zuccherato, la mandò nello stomaco e davanti ad Abbebetsch finalmente parlò. Hai paura delle conchiglie, degli amuleti e di ogni cosa che verrà. In segreto temi di guarire, per questo odi la tua stessa libertà. Danzano i fantasmi ed uno allunga la sua mano per tenerti giù, per tenerti giù. Stima, drago, coccodrillo, medusa, uclo e impetto tra cuore esterno che vada i colpacci e affoghi nei respiri e dentro gli abbracci, dentro gli abbracci. Ma dimmi tu, posa quel telefono e dimmi anche tu. Hai paura delle conchiglie, degli amuleti e di ogni cosa che verrà. in segreto temi di guarire, per questo odi la tua stessa libertà. grazie, grazie a Salanglana, grazie alla magia che porto con te nella tua scrittura, nella tua musica, nella tua arte. Grazie a tutti voi, grazie mille alla biblioteca di Imola per avermi invitato, per averci invitato. Buonanotte a tutti voi, grazie mille. Ringraziamo anche Libraio che è qui con tante copie della Signora Meraviglia che Sabra filmerà con grande piacere. Buonanotte a tutti.